Un personaggio, per esempio, io sai che c'è uno zubo, uno zubo, una cosa così che poi esplodi, perché c'è questo personaggio che si chiama Kenny Prio, che veramente è forte, perché non fai più prego, fai quella, è bellissima, è una sigla cattiva, devi tirare fuori la parte cattiva, fai un po' di outlet, finalmente, e tira fuori la parte cattiva di te, sei pronta? Dai, ce la puoi fare? Finalmente che sei una cattiva, Kenny Prio! Noi, scurre mai, un attimo, la terra per te voi, la mia, si dice no, per te voi, si dice no, per te voi, si dice no, Che è una cattiva, sotto la città, senza piedà! Che è una città! E' la mia che deve stare, chi la speserà le nostre carabelle? E' la mia che deve stare, chi la testicco con me si sveglierà, di chi va e potrà? Sei tu, fantastico guerriero, è sceso come un turmino al cielo. Sei tu, che il nostro non lo vieno, è sceso come un turmino al cielo. 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 Non mi fa anche così. E' quasi affronti. Ha rovinato la sigla. Ha diventato Ken il Lambertaccio. Non è diventato pure Cambridge. Neanche Ken è il marito di Barber ha venuto questa sigla. Ma io vengo a te a rovinare… Sì, sì, ve le rovinate tutte, ve le rovinate tutte. Ma qualcuna manda ancora, però c'è stumore. andiamo avanti con il prossimo il paese sarà un cavolantissimo un personaggio cazzuto di come si parla? la prossima la prossima è la